Buongiorno a tutti dal GZTV, per me è un onore, un piacere poter intervistare il dottor Antonio Colombo proprio in quest'anno in cui si celebra nei 40 anni dalla prima angioplastica coronarica. Dottor Colombo, che cosa secondo lei a suo avviso negli ultimi 40 anni è stato in grado di portare tutta l'evoluzione della cardiologia interventistica? Non c'è dubbio che l'angioplastica coronarica, la possibilità di trattare in maniera poco invasiva una patologia che prima veniva unicamente trattata con un intervento, chiamiamolo quasi colossale, come il Bapassa orto coronarico, è un qualcosa di unico. Per cui da quel momento in poi tutte le innovazioni sono state, non voglio degradarle, però sono state in diminuzione perché lo stent è stato fondamentale, però ha migliorato l'angioplastica, lo stent a rilascio di farmaco, anche lui però ha migliorato, sono state delle piccole aggiunte, ma chi ha veramente aperto una porta verso un orizzonte nuovo è stato il palloncino e il filo guida su cui si muoveva il palloncino. Grazie dottor Colombo. Ecco, possiamo dire che oggi la prossima fontiera che già in pratica è in atto è relativo al trattamento della patologia strutturale non coronarica e soprattutto della patologia valvolare. Ecco, in questo senso, cosa manca oggi al cardiologo interventista per trattare tutta la patologia cardiaca per via percutanea? In realtà siamo veramente agli inizi perché trattare tre o anche quattro valvole tutte diverse è un problema uno per quattro, non è possibile mutuare in maniera tout court quanto fatto nella horta per la mitrale, forse molto della mitrale può essere spostato a livello della tricuspide, della polmonare, è stata la prima un po' la figlioletta lasciata in disparte ma la necessità è grossa, poi ci sono tutte altre patologie come i leak, come i difetti, le fistole eccetera eccetera. Ci stiamo muovendo però anche per fare una, per introdurre una problematica, la stenosi aotica che è la più forse la più semplice, ancora oggi non abbiamo la valvola veramente ideale, abbiamo delle valvole che si avvicinano ma siamo ancora in attesa di quella veramente ideale. Quindi c'è ancora molto da fare. Ancora una domanda dottor Colombo, ma se lei pensa che sicuramente la mortalità dei pazienti affetti da infarto miocardico acuto sia stata battuta con l'angioplastica primaria, notevolmente, quale pensa che sia il prossimo passo e quale margine ancora abbiamo per ulteriormente ridurre la mortalità nei pazienti con affetti da malattia coronarica? Al di là dell'aspetto epidemiologico di prevenzione sociale, di rendere i pazienti informati che quando hanno dolore al petto, bruciore, non devono prendere l'alca seltzer ma devono andare in pronto soccorso, al di là di questi aspetti anche nel trattamento ospedaliero dell'infarto abbiamo dei problemi come capacità di riduzione dell'aria infartuata. Riaprire il vaso non significa sempre ridurre l'entità dell'infarto per cui anche se questo non ha un impatto sulla mortalità immediata ha un impatto sulla riduzione della frazione di erezione, sull'insufficienza cardiaca eccetera per cui nell'angioplastica primaria abbiamo bisogno di modalità aggiuntive in grado di ridurre il danno da riperfusione, di ridurre l'area ischemica e l'area necrotica. Ultimissima domanda, se lei avesse la palla di cristallo, dottor Colombo, che cosa prevederebbe per i prossimi 40 anni nello sviluppo della cardiologia interventistica? Senz'altro vediamo un avvicinamento molto maggiore, già che anche se è grande, fra chirurgo cardiaco interventista. Probabilmente soprattutto nell'interventistica dinamica, dinamica intendo quella dei fluidi del sangue, non dell'elettrofisiologia, io penso che avremo un dipartimento cardiotoracico con due direttori, uno medico e uno chirurgico, che probabilmente avranno l'ufficio uno di fianco all'altro e il reparto sarà quasi unico. Grazie a tutti.